Non essendo molto portato per gli studi, a 16 anni ho fatto domanda alla Ferragna, dopo un colloquio sono stato assunto, il colloquio l'ho fatto all'epoca con il Dottor Valbusa che era direttore della ricerca all'epoca, gli sono piaciuto e mi ha preso nel suo laboratorio. Non ero portato per gli studi, però ero curioso, ero impaziente di vedere, di capire, di cercare in queste cose. Il mio primo giorno è stato traumatico, in quanto sono stato portato in un ambiente, in un laboratorio che non conoscevo l'esistenza di un qualcosa del genere, colmo di cose strane, bottiglie, macchinari, odori, rumori che non conoscevo. Questo avvalso alla mia curiosità, diciamo tecnica, non ero portato agli studi, però ero più portato per le cose tecniche, per le cose anche meccaniche e poi mi affascinava molto, all'epoca agli ancora. Questa mi affascinava e mi ha portato a inserirmi in quell'ambiente. Ho avuto anche la fortuna che i miei superiori hanno visto questo mio interesse e questa mia cosa e di conseguenza piano piano mi hanno dato spazio e ho cominciato anche lì una carriera, aumentare di categorie, fare lavori più importanti, sino ad arrivare a un laboratorio nato in quell'epoca lì che si chiamava New Technology. Dovevamo studiare nuove tecnologie un po' per tutto, per i reparti, per gli altri laboratori, nuovi sistemi di misura. Nel frattempo erano arrivati i primi IBM, l'XT, gli albori dei computer con quegli schermi a fosfori verdi, con una persistenza infinita e tutto questo per me era, a volte quando suonava la sirena dal fine lavoro mi infastidiva quasi, perché mi piaceva questa cosa e da lì ho cominciato sia la carriera economica e anche proprio la carriera lavorativa, ho appreso nuove conoscenze, abbiamo creato proprio, abbiamo inventato delle cose nel laboratorio per migliorare la produzione, nel frattempo la Kodak aveva inventato il disco che è stato un tremendo flop proprio per tutti e noi dovevamo praticamente avevano dato la ricerca del disco e avevano dato 8 mesi di tempo per portare in produzione il disco, delle cose spaventose perché non si conosceva bene, c'erano mille problemi, avevamo dei problemi insormontabili perché questo disco era dentro un supporto di plastica e se stava un po' al caldo, all'umido si incolava e non girava più, di conseguenza abbiamo dovuto trovare la soluzione e grazie a un'intuizione, vedendo un servizio in televisione che faceva vedere la dialisi, la purificazione del sangue tramite l'ultrafiltrazione, la microfiltrazione ha svegliato quasi contemporaneamente al laboratorio dicendo se applicassimo questo sistema all'emulsione, cioè togliere i sali dall'emulsione con l'ultrafiltrazione perché i sali li toglievano lavando l'emulsione in acqua demineralizzata, ghiacciata, per ore e ore ed era costosissimo e non è che funzionasse perfettamente e noi piano piano abbiamo inserito questo sistema dell'ultrafiltrazione risolvendo grossissimi problemi e mandando il disco in produzione. Grazie 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 Grazie